Ciao a tutti e a tutte, siamo qui dalla libreria I Fiori Blu, qui per fare le dirette di Radio 32, la radio che ascolta, i lunedì dei Fiori Blu. Esatto, esatto, i lunedì dei Fiori Blu e siamo qui con un ospite, con chi siamo Martina? Siamo qui con Gilvia delle Playgirls from Caracas, che ci siamo conosciute appunto durante le passeggiate in slow motion, un evento organizzato da Giuliano Anania e Dominio Pubblico, con Tiziano Pagnici, e praticamente le Playgirls hanno animato con la musica e con le loro playlist due giornate delle passeggiate, una al quartiere Trullo e una al quartiere Corviale, e niente, mi è piaciuto subito il fatto che l'idea di mettere musica anche elettronica, musica anche pop, però in un contesto totalmente diverso, perché stavamo passeggiando per strada, quindi attraversavamo strade, attraversavamo quartieri anche poco conosciuti, quindi hanno comunque pensato di unire questa, di unire appunto delle musiche insieme ai racconti che si facevano del quartiere. Però le Playgirls, ricordiamo, insomma, sono delle DJ femministe queer, che fanno tante feste, animano tantissime feste anche qui al Pigneto, dove siamo di casa. Un momento limbo, perché... Siamo passate i fili, siamo passate i fili, ma tra l'altro a me fa un po' strano, appunto, vedere le Playgirls solo una, nel senso perché per me è una coppia inscindibile, indissolubile, e quindi come stai intanto? Ciao! Ciao, io so molto bene, grazie! E quindi come è stato partecipare, appunto, prendendo la domanda di Martina, Festival delle Passeggiate, che esperienza è stata? Allora, è stato molto interessante, sia il fatto di dover pensare delle playlist apposte per il quartiere, che si doveva attraversare, sia anche perché con l'occasione, siccome io poi non sono romana, ho avuto l'occasione di conoscere comunque dei quartieri a me sconosciuti, perché, diciamo, ad occhio esterno Roma è sempre il centro storico, il Colosseo, il Vaticano, il San Pietro, insomma tutta la parte turistica, però, diciamo, ci sono anche altre situazioni un po' meno belle, un po' meno attrattive, però non per questo non sono comunque affascinanti come posti, come per esempio, appunto, il Trullo, per me è stata la prima volta che ci sono stata, nel quartiere del Trullo, ed è stato molto affascinante, a parte che a me sembrava proprio dimensione paesino, anche tipico, un paesino delle parti mia, no? Io sono di Tarentina, non so se l'ho detto prima, vabbè. Salento dove? Sono della provincia di Lecce, precisamente Copertino, famoso per San Giuseppe da Copertino. Sì, sì, famoso per... San Giuseppe da Copertino. L'ho già sentito, so che non mi ricordo adesso per cos'è famoso. Allora, è famoso perché volava. Volava? Volava, cioè si alzava proprio da terra. È tipo un santo supereroe, diciamo. Sì, diciamo che era, diciamo così, tanto leggero di testa, si diceva che se ne andava in estasi, fino a volare, fino a volare. Fantastico, ma io me lo sto immaginando come un eroe della Marvel. Sì, in realtà nel paese era un po' considerato tipo lo scemo del villaggio, però poi aveva comunque una parte mistica. Sempre più Marvel, perché è proprio come Clark Kent, che in realtà poi dopo... ma tipo che all'inizio la chiesa non l'aveva riconosciuto come una persona, diciamo... Santa. Sì, addirittura lo hanno messo in carcere, le hanno messo tipo le palle di piombo per non farlo volare, quello volava con tutte le palle di piombo ai piedi, insomma, un po' così. Vabbè. Infatti una domanda che volevo farti e che ti avevo già un po' annunciato prima, era da Lecce come siete venuti a Roma, e poi insomma, quindi che il progetto appunto è nato nel 2007 a Lecce, poi siete venuti comunque nella capitale, e poi anche la curiosità è perché vi chiamate Playgirl from Caracas? Perché non... perché facevo la capitale del Venezuela? Cos'è che vi lega? Allora, ok, intanto sì, il progetto nasce nel 2007, però non c'ero io, c'era Anna-Lisa, che è l'altro Playgirl, che è mia compagna, e Benedetta. E hanno iniziato loro due a mettere musica, in un luogo a Lecce, stufe, diciamo, di tutta quella musica al maschile, che si sentiva ovunque, e quindi decisero di fare una serata che si chiamava The Best Female Selection, solo musica femminile, di tutte le epoche, di tutti i generi, senza nome. Quindi nascono, non come Playgirls from Caracas, ma come, diciamo, un evento che si chiamava appunto The Best Female Selection. Poi, diciamo, dal luogo dove sono nate, non lo so, mi sa che hanno bisticciato, non lo so che è successo, perché non c'era. sono passate al peggior bar di Lecce, che era The Orient Express, era un bar frequentato da studenti, principalmente extracomunitari, tossici, persone, insomma, diciamo, le peggiori persone che potrebbero esserci, perché poi le cose costavano poco e quindi avvicinava, diciamo, un certo tipo di persone. E un nostro amico disse, ok, vi faccio io la locandina, e lui in autonomia scrisse Playgirls from Caracas, quindi diede un nome a questo progetto. Playgirls, perché all'epoca era uscito il pezzo dei Lady Tron che si chiamava Playgirl, che ascoltavano e veniva messo anche durante le serate. E poi from Caracas, perché quel periodo c'era lo spot del Pampero, il peggior rum bevuto nel bar di Caracas, ed era il periodo in cui si beveva Pampero e Pera al bancone di questo bar, no? Ok, quindi anche fa un po' colorigini, per cui hanno cominciato a fare musica, e appunto ho letto che voi fate una sorta di archeologia queer, quindi andate a ricercare anche delle canzoni che non sono mainstream, che non si sentono diciamo abitualmente, quindi fate anche una ricerca musicale un po' andando anche indietro nel tempo, curando proprio delle playlist selezionate per degli eventi specifici, e quindi insomma spiegaci un po' questo processo, perché è venuta in mente questa idea di musica queer un po' diversa? E cos'è poi la musica queer se esiste un'etichetta? Allora, io sinceramente già non riesco a dare un'etichetta a quello che facciamo noi, io comunque, no? Vabbè, diciamo che musica queer per noi è, cioè, io parlo io per me, Gilvia, mi dispiace che non c'è Annalisa, insomma, per, però, principalmente, c'è la musica queer vabbè, un po' perché magari può essere sicuramente per, diciamo, la comunità queer, comunità gay, lesbiche, comunque tutta la comunità LGBT, queer, plus, sicuramente. Poi, a parte pure il, che ne so, in base anche ai temi raccontati nelle canzoni, in base anche a chi, chi le fa, se fa parte della comunità o comunque una persona amica, perché non è che per forza una, cioè, tipo Raffaella Carrà è stata, no? l'icona per eccellenza, però, non è mai, non ha mai fatto delle dichiarazioni a differenza di altre persone che sono comunque icone gay, però, hanno anche avuto da dire, da fare dei commenti un po' infelici verso la comunità, no? Infatti, appena sappiamo questa cosa, che questa persona, via, via dalla playlist, no? Per, per, quindi, vabbè, poi, parlando dell'archeologia queer, scavare nell'archeologia queer, ma, più che altro, siccome noi ascoltiamo tantissima musica di tutti i generi, di tutte le epoche, cerchiamo di inserire questa cosa nei nostri DJ set, cercando anche di creare un non genere, no? Cioè, si parla tanto anche, cioè, ora soprattutto poi si parla anche di fluidità, appunto, dei generi, dei corpi, quindi, ci piace anche che la musica sia fluida nei generi anche per questo motivo, senza stare a, che ne so, a mettere solo cose commerciali, solo cose rock, solo cose pop, tutto, elettronica, ci piace mischiare, comunque, rendere, diciamo che è più un'esperienza, va? che è un DJ set, no? Non lo so, ci hanno definito tante cose, tipo, una volta, una ragazza, dopo un evento, dopo un DJ set, è venuta e ha fatto, ma voi avete fatto la miglior sessione cardio della mia vita? Che io così, no? Cioè, comunque, non è una cosa che, ti immagini, no? dopo un DJ set, che una persona viene, insomma, ecco. Sì, nel senso, che è una musica che può abbracciare vari stili, quindi può piacere anche a tante persone che ascoltano una musica diversa, e, infatti, ho visto poi che avete anche collaborato con Mischietta. Allora, allora, per il remix, vabbè, con Mischietta abbiamo condiviso lo stesso palco un paio di volte, e, invece, eh, per quanto riguarda il remix, è il remix di Populus, Fit, Mischietta, anche Kenji Benji, un ragazzo che fa, mh, voguing a Milano, e, quindi, diciamo, il remix, quel remix è stato fatto insieme a Fluido Studio ed è stata la nostra prima collaborazione con, con loro, eh, da cui poi sono, succedute altre, altri brani, altri remix, è questo, spero di aver risposto alla domanda. C'è una domanda, c'è una domanda, eh sì, perché su Mischietta, come è stato collaborare con Mischietta, ma quindi l'avete vista in volto? Questa è la domanda proprio, scusa, scusa, no, eh, lo so, è a livello basso. che importanza ha questo? Lo so, lo so, è basso, lo so, è bassissimo. Nel senso che se una persona si presenta in un certo modo, cioè, tipo io pure, mi presento sempre ai DJ set, con le chiede da sole, la camicetta, a volte il reggiseno, però, cioè, quello è, diciamo, no? Personaggio, diciamo. La presenza scenica. Ma potrei anche essere io veramente così, no, per dire, però, infatti, molto spesso mi dicono, ma perché non ti devi la chiede da sole? e io dico, vabbè, perché? Questo momento non mi va. No, poi magari mi vedi domani, nel senso che è la sole, no? Cioè, nel senso, adesso pure che rispondo sì, l'ho vista in volto o no, mai vista in volto, cioè, non credo che cambi qualcosa. Come è stato collaborare, ecco, nel senso, al dire di questo aspetto. Allora, no, preciso, non è che abbiamo collaborato, abbiamo fatto un remix di Populus. Ok. Fit, mischieta, che infatti, la canzone è nell'album di Populus. Però, diciamo che abbiamo avuto modo di, comunque, di conoscere, incontrarla, farci una chiacchierata, stare sedute a fianco, come così, come sto con Martina. c'è da dire che comunque è una persona squisita. Cioè, a parte che, come si dice, girl power. anzi, mi dispiace pure quando appunto le persone che vengono appunto a dire maschera, non maschera, ma perché, ma qua, ma là, che pure, mi sa che uscì qualche articolo che l'avevamo beccata senza, senza, che da sole è velo. Cioè, alla fine, quello è, cioè, è solo gossip. per il resto. io mi scuso per Martina per la figuraccia che ti ho fatto questa domanda, perdona. Calcola che, Miss Keda, è venuta anche al festival Alta Felicità, e, a proposito di gossip, e ha fatto una foto anche con le magliette dei disabili pirata, di, che è un gruppo che fa parte del disabili The Pride Network, quindi comunque è una persona molto disponibile anche a, come si dice, appoggiare le cause intersezionali, quindi al di là anche per la comunità LGBTQ+, comunque è sempre stata un'icona, quindi al di là poi dei gusti musicali che ognuno ha i suoi, comunque è un personaggio molto aperto, insomma, comunicativo che si dà tanto da fare, quindi mi piaceva citarla. E poi anche un'altra cosa, una curiosità anche sulle Playgirls è che avete partecipato anche a un'iniziativa di Gucci, da quello che ho capito, Gucci Cruise, mi pare che si chiamasse come la campagna, sì, che ti abbiamo anche fotografato. La campagna con cui abbiamo fatto come si chiama, lo shooting fotografico è Gucci Manifesto che faceva parte appunto del Gucci Cruising, ora non mi ricordo nemmeno che anno era. Comunque all'inizio noi eravamo state chiamate solo per suonare alla festa, all'after party della sfilata Gucci Cruising di quell'anno che ora non mi ricordo, io scusate, ma c'è, magari riuscisse a ricordare subito al volo tutto, vabbè. e poi man mano ho cominciato a dire ah ma volete anche fare uno shooting per questa linea di magliette e felpe, perché siccome poi all'epoca uscivamo, cioè ci esibivamo nei DJsetta anche con delle maschere, Alessandro Michele all'epoca fece delle maschere con delle borche e ha fatto la serigrafia di queste maschere sulle magliette, quindi non lo so, gli si è accesa una lampadina quando ci ha visto suonare una serata e adesso non so quale delle tante e quindi ci chiamò pure per fare lo shooting oltre alla festa insomma l'after party della sfilata e poi c'è chiesto pure di fare la playlist così tema libero noi abbiamo deciso di fare una playlist chiamata Everybody is sexy cioè ognuno è libero no ognuno è sexy oppure ogni corpo è sexy perché ha un'ambivalenza no infatti tante collaborazioni eventi importanti ma principalmente voi comunque vi muovete su Roma ho visto che fate tanti spettacoli avete fatto anche momenti all'Angelo Mai o 30 formiche che sta qui al Pigneto Fanfulla quindi comunque siete largo venue quindi siete comunque molto attivi soprattutto su Roma e partecipate a tantissimi eventi quindi avete proprio diciamo sviluppato una carriera all'interno del territorio in cui poi vivete quindi insomma anche appoggiare centri sociali o comunque associazioni che sono simili al vostro modo di vedere le cose quindi al di là della musica c'è anche una forte un forte componente di attivismo e quindi questa cosa la rivendicate ed è quella poi che viene anche molto settolineata in tutte le vostre interviste collaborazioni e niente puoi parlarci un po' di come appunto tu dicevi che sei muta dopo nelle Playgirls quindi già dal 2009 quindi loro sono partite facendo musica a Lecce e come sono arrivate qui a Roma come è andata poi qua dobbiamo entrare anche un po' nel personale e nella love story delle Playgirls perché nel 2009 ho conosciuto Annalisa cioè oppure Annalisa nel 2009 ha conosciuto me vabbè diciamo è sempre una cosa più univoca quindi nel 2009 ci siamo conosciute e io già l'avevo vista a Lecce che un po' la tampinavo che insomma volevo un attimo conoscerla meglio nel 2009 c'è stata l'occasione e diciamo che l'occasione giusta e giustissima è stato il concerto di Peaches al Circolo degli Artisti nel 2009 e lì diciamo che ci siamo innamorate entrambe poi io già avevo comunque un progetto musicale perché comunque nasco come chitarrista e come producer di musica elettronica avevo un progetto che si chiamava Le Super Squillo che faceva punk rock punk elettro punk scusami elettro punk poi comunque ho un mio progetto che ho messo da parte perché poi mancanza di tempo è proprio Gilvia facevo musica elettronica tecno non è mai uscito niente perché sono sempre stata in cameretta a fare cose però c'è un po' di cose insomma accantonate e quindi all'inizio facevamo le serate insieme Preghies from Caracas più Gilvia allora certa Annalisa ha detto senti ma perché non ci uniamo e ci fondiamo quindi per un periodo siamo state pure in tre Annalisa Benedetta e Gilvia infatti ogni volta quando mi dicono la seconda Preghies dico no io sono la terza la prima è Annalisa la seconda poi ha preso altre strade nella vita quindi e siamo venute a Roma perché in realtà quando ci siamo conosciute io stavo a Roma in cerca di lavoro e poi insomma abbiamo passato un anno a Lecce insieme poi ho trovato finalmente lavoro a Roma e ci siamo trasferite entrambe e se devo dire al Pigneto dove infatti ci troviamo adesso da subito perché come mai il Pigneto allora principalmente al Pigneto abbiamo già alcune amicizie anche dal periodo universitario di Lecce quindi già avevamo diciamo una base di persone con cui uscire con cui vedersi anche per chiedere che ne so qualcosa perché no c'è comunque bisogna sempre avere bisogno no di qualcuno non è che puoi fare tutto quindi abbiamo deciso di prendere casa al Pigneto nonostante io all'epoca lavorassi a Pomezia che infatti all'epoca dicevo ok prendo casa a Pomezia ok poi il sabato e domenica che faccio mi sparo no prendo casa beh sì scusate però diciamo riporto quanto dice Daniele salutiamo gli amici di Pomezia però capiamo capiamo diciamo che come stile di vita sono abbastanza esigente vabbè se devi fare DJ se devo fare pure serate cose a Pomezia insomma è un po' complicato a spostarsi anche se abbiamo anche suonato a Pomezia ah sì sì strano ma vero non non so nemmeno se esiste più era un circolarci manco mi ricordo come si chiama stavo in mezzo Pomezia c'è ancora sì sì e ti saluta no però ci interessa la parte pignetina perché insomma Radio 32 è anche una radio territoriale eh sì il lunedì da tanto tempo fa trasmissione del territorio e te da che anno stai al Pigneto eh dal 2011 quindi ti sei vista una bella un bel pezzo di trasformazione ma io in realtà io sono arrivata a Roma nel 2002 però stavo a Lucio Sestio e comunque capitava di uscire anche al Pigneto anche prima di essere quello che è adesso no? dai definisci quello che è adesso il Pigneto domandona no ti faccio un'altra domanda ma come? no no perché si collega a questa ci sta te sei invitato vicino a Lucina che c'era un circolo arci che ha fatto insomma parecchie serate lo ricordo il Dal Verme dal Verme certo poi c'è il fanfulla che è storico sono tutti i circoli arci che stanno stanno ancora con il Pigneto il Dal Verme insomma si è ricipato in giro in altri modi e pieno oltre al consumismo che vediamo comunque di scene interessanti in questi ultimi giorni c'è un dibattito per degli episodi di Crona che sono successo sulla diciamo la leggerezza di attraversare queste strade per tutti e per tutte e te che ne pensi? nel senso la parte nostra intendo come produttori musicali noi che facciamo radio gente che anima il territorio ha un compito ha un modo di intervenire su su un modo diverso di viversi il territorio evidentemente non so se è chiara un po' la domanda però volevo che ti esprimessi no è chiara la domanda solo che mi trovo un po' di difficoltà a rispondere spero di che ti senti tranquilla la sera? allora sinceramente ultimamente un po' meno appunto ho visto gli episodi insomma che sono successi tra il Pigneto e Tor Pignattara fondamentalmente e si sono si sono state sono state fatte delle passeggiate delle no? per sì sì le fanno settimanalmente sì 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 abbiamo anche partecipato a qualcuna ad ogni momento hai detto all'inizio una cosa quando parlavi che sei venuta al Pigneto che ci sei venuta perché c'erano parecchie persone che conoscevano tante università ed era importante importante una persona avere una sorta di comunità intorno e certo forse la difficoltà è questa in questo momento cioè ristabilire questi fili di comunità probabilmente sì anche perché poi tra l'altro questo periodo che si stanno svuotando gli appartamenti di gente che vive diciamo che stanno svuotando gli appartamenti per fare il B&B ovviamente le persone che verranno ad abitare il B&B non faranno mai parte di una comunità che magari ti può sostenere o può quindi anche questa cosa secondo me un po' influisce perché appunto se si svuotano dalle persone di cui fidarsi si è un po' un po' un disastro cioè nel senso io quando sono venuta all'inizio al Pigneto non è che era così tranquillo nemmeno nel senso trovavi spacciatori che cioè no che ti chiedevano cosa volevi poi una certa c'era quello che ti chiedeva io almeno c'è stato un periodo che una certa ho detto oddio che è successo perché facevo la passeggiata e c'era quello che faceva fumo erba e poi aperitivo con il buttadentro dei locali facevano più o meno lo stesso gioco mi sembrava non lo so vabbè niente stormatizziamo un po' no no è interessante perché stiamo raccontando quello che è l'offerta per le persone giovani soprattutto no in cui quando comunque c'è cultura si sviluppa comunque un dibattito discussioni feste iniziative eccetera poi arriva comunque una parte commerciale anche quella delle droghe io ci metto anche l'alcol cioè il pigneto è soprattutto una mescita d'alcol che comunque non è che fa bene l'alcol se non usato per come tutte le cose per socializzare per stare meglio uno con l'altro no eh sì però insomma mi fa piacere che anche te questo problema lo senti lo senti evidente io penso che un collettivo come il vostro lo chiamo collettivo il vostro duo che sta intorno poi alla comunità lgbtq eccetera ha comunque sente l'esigenza di doversi esprimere anche su questi temi no eh sì sì tra l'altro c'è appunto la la nasce cioè diciamo se penso agli arbori no del Plaguez Froncaracas in quella peggior barra di Lecce che appunto accoglieva diverse persone diciamo no eh comunque il momento festa era un momento dove eh a me a me dispiace che non c'è Annalisa l'avrebbe raccontato meglio di me però vabbè accontentatevi tutti eh diciamo c'era questo momento festa dove queste persone trovavano una come si dice una dimensione dove alla fine potevano esprimere loro stessi no in maniera tranquilla stavano tutti bene poi trovavi persone veramente trovavi che ne so eh a parte gli studenti trovavi eh l'africano il bengalese eh il metallaro quello che si sentiva la musica dark cioè trovavi tutti che poi alla fine andavano a ballare la lambada cioè era una cosa proprio bella capito cioè per quello cioè non lo so noi vediamo anche come un momento ricreativo pure il nostro lavoro che facciamo no? il fatto di stare insieme nelle diversità cioè ognuno ha la sua diversità però ci piace stare insieme c'è ehm ascoltà musica anche fatto del mixare poi a generi diversi un po' a che fa con questo discorso no? quindi andrà a cercare di far sta bene le persone al di là poi dell'orientamento della provenienza per qualsiasi cosa tu sia insomma senza stare lì a no? eh ho fatto diciamo ho dovuto catalogare un po' di persone però insomma era cioè in base a quello che sei cioè stai stiamo insieme diventiamo anche un'unica entità non lo so cioè comunque siamo tutti presi bene magari la remixiamo la lambada la mixiamo con l'elettronica esce una cosa più figa ancora non lo so boh chissà vediamo vediamo che può succedere il discorso infatti che faceva prima Daniele sul Pigneto un po' si può anche ricollocare alle passeggiate che abbiamo fatto con Giulia perché fondamentalmente fare queste manifestazioni, questi eventi sono anche un po' per ricucire un po' la storia del quartiere con le attività che si fanno con i gruppi, le associazioni che portano avanti battaglie e quindi è stato anche bello quel momento lì e come è stato parteciparvi cioè quando ti ha parlato di questa idea Giulia di fare il DJ set in cammino e insomma come ti sei orientata per scegliere anche un po' la musica ero un po' curiosa di sapere questo allora inizialmente quando mi ha detto mi ha detto stavo organizzando il festival di passeggiate avevo pensato di chiamarvi per fare un DJ set itinerante non lo so, non mi ricordo le parole esatte però vabbè e io ho detto ok e ho pensato subito e come? cioè a livello tecnico no? com'è? diciamo il primo scoglio poi però lei mi ha detto le casse abbiamo la cassa che cammina io poi ho pensato ma che faccio faccio una playlist già fatta oppure scelgo dei brani e li mando al momento che non lo so anche in base a quello che mi ispira e ho scelto di più la seconda opzione quindi mi sono fatto una una lista di canzoni che infatti non ho suonato tutte però poi nelle playlist che ho mandato invece sono quelle che sono state suonate perché appunto non sapevo cosa succedeva non sapevo insomma il mood della situazione però è stato molto costruttivo il fatto che comunque con Giulia abbiamo fatto giusto un discorso anche per quanto riguarda il contenuto appunto del per ogni quartiere quindi mi ha dato qualche indicazione poi ho pensato comunque una passeggiata comunque che ne so il trullo era la mattina non è che posso fare cos'è troppo eh che poi al corviale invece vabbè conoscendo io allora tra il trullo e il corviale il corviale ci sono state due volte e sono rimasta anche affascinata un po' allucinata quindi è davvero un posto assurdo e lì per esempio per il trullo che ho messo delle cose un po' più tranquille un po' più anche pensando che ne so alla città al dover camminare andare poi perché Giulia mi aveva anticipato che dovevamo salire sul sul monte cucchi eccetera eccetera ho pensato cucco ho pensato insomma qualcosa per il corviale invece ho pensato qualcosa di un po' più forte cioè mettere qualcosa un po' più girl power infatti diciamo la musica che è stata scelta soprattutto musica al femminile di un certo tipo di genere che è un po' più elettro un po' più un po' più hip hop un po' più rap un po' più anche un po' che ne so ho pensato a una musica tipo dell'america del Detroit come dire si cioè non lo so ho pensato a una cosa anche per dare un po' più di carica alle persone poi io ho pensato soprattutto per i giovani del corviale quindi quindi questo non so ho risposto bene alla domanda sì no di fatti nella playlist c'era anche che so Bjork quindi musica un po' nordica un po' comunque Diego approva Diego approva infatti e quindi cioè c'è stato questo cambio di registro si sentiva e comunque è una bella idea secondo me di fare una musica in cammino mentre ci spostiamo e sentire anche musica ti dà anche un po' il ritmo di quello che sta succedendo in base a quello che vedi poi Giulia ha proprio questa voglia di rappresentare come dicevi te Martina non solo di scoprire il quartiere e tirar fuori quelle relazioni che sono importanti per i discorsi che facciamo prima ma di portare nel quartiere delle esperienze che sono particolari che possono accendere una scintilla di curiosità perché poi insomma vedere voi che mettete musica sentire il vostro nome il vostro progetto diventa qualcosa che che arricchisce il quartiere che si attraversa in qualche modo e le persone che lo fanno vengono arricchite a loro volta dal quartiere perché io il trullo lo conosco da tanto tempo però attraversarlo in questo modo mi ha dato un qualcosa in più così corviale così cordiale perché poi c'era la gente giustamente orgogliosa di voler rappresentarsi e raccontare e far sentire la propria voce al microfono che mette a disposizione Giulia Giulia Nania ricordiamolo perché diciamo sempre Giulia e poi magari gli ascoltatori non sanno non vai di casa Martina io andrei alla conclusione perché poi incazza il nostro programma appunto c'è Diego Mariani in panchina che si sta scaldando con la sua trasmissione Music Time sì perché infatti oggi era dedicata appunto alla musica e quindi grazie a Gilbia che ci ha parlato della musica che fanno con le Playgirls from Caracas e quindi insomma vuoi dare dei social per contattarvi penso avete la pagina Instagram considera che è una prossima serata di finanziamento di Radio 32 pensati già pensati arruolata io non potrei andare a ballare i fiori blu si infiammano grazie per essere venuta insomma vi chiedevi dei social dove cercare playgirls dove seguirvi dacci qualche coordinata e anche i prossimi anche i prossimi eventi in cui partecipate vabbè vai vai attraverso pure allora per i prossimi eventi dove partecipiamo devo vedere un attimo il calendario perché non 25 di questo mese saremo ad Andria in Puglia per tra l'altro una serata delle svergognate queer poi a novembre saremo su Roma diverse volte diversi weekend non mi ricordo precisamente giorni precisi vabbè comunque se in caso le persone se sono interessate possono andare sul nostro profilo Instagram che è playgirls from Caracas con gli underscore invece degli spazi però se cercano playgirls from Caracas nel web potranno qualcosa esce si esce YouTube esce Spotify esce Mixcloud esce Facebook escono gli articoli non lo so esce qualcosina esce quindi ci salutiamo e non vediamo l'ora di venirvi a sentire ballare magari a Pomezia organizzare qualcosa da là per risarci grazie grazie mille applausi e metti un po' di musica Eddie metti un po' di musica grazie a tutti I went to the doctor Said I'm crazy For your love Wrote me a prescription But there is no cure For a crush All I wanna do I wanna do is take you home with me I wanna make a move I wanna make a move But I'm too shy I can't fall asleep Without your arms around me I guess I'm falling in love Baby, you're my rock star Smashing all my guitars One day I'll charge you For breaking my heart You're just like my sport car Driving fast to go far When I'm sitting by you We get high This song is about you And my lips are craving for One kiss One smile Two feet down On the floor All I wanna do I wanna do Is take you home with me I wanna make a move I wanna make a move But I'm too shy I can't fall asleep Without your arms around me I guess I'm falling in love Baby, you're my rock star Smashing all my guitars One day I'll charge you For breaking my heart